Il malore che ha colpito Pierluigi Bersani è stato senza dubbio grave e molto preoccupante, ma forse un aspetto positivo ce l'ha. Il politico piacentino è stato sommerso da una serie infinita di manifestazioni di stima e di affetto. Ha iniziato ieri il vicepremier Angelino Alfano, seguito a ruota da Piero Grasso, Antonio Di Pietro, Piero Fassino, Ignazio Marino, Maria Stella Gelmini, Maurizio Gasparri e dalla deputata piacentina Paola De Micheli, che segue l'evolversi della situazione addirittura dal viaggio di nozze. Tantissimi cittadini che hanno chiamato il centralino dell'ospedale di Parma per informarsi sulle condizioni di Bersani. Anche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha chiesto lo stato di salute del piacentino mentre il premier Enrico Letta ha promesso alla moglie di Bersani di fargli visita non appena possibile. Oggi anche Umberto Bossi e Beppe Grillo gli hanno rivolto parole di affetto e incoraggiamento. In molti però non si sono limitati a tweet o messaggi, ma sono andati di persone all'ospedale di Parma. È il caso del presidente della regione Emilia-Romagna, Vasco Errani, e del presidente del PD Gianni Cuperlo, per finire con il nuovo segretario democratico Matteo Renzi. Anche una delegazione piacentina ha voluto portare a Bersani l'abbraccio dei suoi concittadini, non solo di quali del PD. A Parma sono giunti il sindaco Paolo Dosi e il vice sindaco Francesco Cacciatore. Con loro anche l'ex sindaco Roberto Reggi, che ha ovviamente lasciato da parte le polemiche dei mesi scorsi per stringersi a Bersani e la sua famiglia, assieme al segretario provinciale del PD Gianluigi Molinari e il consigliere comunale Giulia Piroli. Siamo qua insieme a Roberto Reggi, Francesco Cacciatore, Giulia Piroli, Gianluigi Molinari per rappresentare la nostra vicinanza. Credo di poter rappresentare davvero tutta la comunità piacentina. Le tante manifestazioni di affetto che sono arrivate all'indirizzo di Pierluigi Bersani, credo che testimoniano al di là di qualsiasi riferimento, di qualsiasi appartenenza, la stima e anche l'affetto che i piacentini non solo rivolgono alla sua persona. Quindi mi sembra che sia un gesto non solo dovuto, ma anche molto sentito. Le buone notizie che arrivano ci fanno ben sperare, siamo tutti contenti, questo è il tema, poi ci possono anche essere divisioni nella politica e anche diverse visioni del futuro, prospettive eccetera, ma quello che conta è la vicinanza umana. Siamo venuti qua, anche se è impossibile parlargli come è giusto che sia, per stargli vicino, solidarietà personale, umana e anche politica. È un fatto grave, ma che come risvolto positivo ha probabilmente dimostrato un grande affetto nei confronti di Bersani da parte di tanti cittadini? Sicuramente un grande affetto che sembrava non esserci più tanto, visto che Pierluigi forse si è avuto un po' l'impressione che sia stato lasciato un po' solo. Invece questo episodio, che per fortuna si va per il meglio, ha fatto sì che molta gente si riconoscesse nella sua figura come persona, come politico, di una persona perbene. In mattinata era stata la volta del parlamentare democratico piacentino Maurizio Migliavacca. Cacciatore ha infine voluto evidenziare l'ottimo lavoro svolto dai medici dell'ospedale di Piacenza che hanno immediatamente trovato il problema e quelli di Parma che lo hanno operato.